Saria e poi il concorso? Diciamo prima il concorso perché mi sembra un traguardo importantissimo, si tratta di operatori che aspettiamo da tempo all'interno delle nostre strutture, va ringraziato Dattoli tutto il suo staff, tutte le persone che si sono cimentate, perché avevamo iniziato questo discorso dicendo io e lui facciamolo assieme, poi l'idea è stata buona e la regione ha voluto che si facesse per tutta la regione pubblica. È stato però un concorso caratterizzato da molte polemiche? Le polemiche sono fatte per essere affrontate, l'importante è arrivare a un risultato, credo che qui si trattava di migliaia di persone, c'è un interesse importante da parte di tutti che si tratta di lavoro e però io credo che ha dato merito a Dattoli, dicevo, la sua equipe ed ha fatto un lavoro importante.